Dietro front della Camera di Commercio di Teramo sulla fusione con quella dell'Aquila, l'ente unico del Gran Sasso sembrava ormai cosa fatta. Avrebbe compreso oltre 80.000 imprese, una coesione cruciale anche per affrontare temi di primo piano, come quello della realizzazione del superospedale L'Aquila-Teramo. Ora però il Consiglio Camerale Teramano ha votato all'unanimità, come annunciato dal Presidente Gloriano Lanciotti, la revoca della delibera del 2016, in cui si era deciso l'accorpamento con l'ente aquilano. Le ragioni di questo totale cambio di rotta probabilmente sono rintracciabili nella mancata condivisione di obiettivi comuni. I Teramani infatti hanno il timore di vedere l'eso, il proprio ruolo e l'influenza che ne deriva. Per sospendere la fusione, adesso la palla è nelle mani della Regione, che a sua volta la rimbalza al Ministero dello Sviluppo Economico. Immediata la reazione di Confindustria dell'Aquila, che sottolinea come occorra subito una riunione per scongiurare l'ipotesi di un commissariamento delle due Camere. Il consigliere regionale PD, Dino Pepe, invita a rispettare la volontà della Camera Teramana, che già da tempo aveva cercato di mettersi di traverso al processo di fusione. Soddisfazione invece da parte del 5 Stelle Marco Cipolletti, che ha parlato di una decisione all'epoca frettolosa e frutto di un'induzione all'errore, per poi affermare che la fusione non porterebbe nessun vantaggio al territorio teramano. E mentre Teramo e l'Aquila si allontanano sempre di più, è stato scelto il segretario generale della Camera di Commercio Chiedi Pescara. Si tratta del marchigiano Michele De Vita, già vice segretario regionale della Camera Unica delle Marche.